Carlo Bernardino, allenatore della Baldaccio Bruni di Anghiari avevamo intervistato poco più di un mese fa quando la Baldaccio era ancora alla ricerca della prima vittoria poi sono arrivati addirittura 5 successi consecutivi, è cambiato tutto? Dal punto di vista dei risultati sì, è cambiato tutto però dal punto di vista delle prestazioni erano soddisfacenti anche prima però non riuscivamo a ottenere la vittoria però a livello di gioco diciamo che le prestazioni erano comunque soddisfacenti anche nelle prime 6 giornate Il successo contro la Rignanese in trasferta è importantissimo per il morale e per la classifica, che gara è stata? È stata una partita durissima, abbiamo trovato un avversario molto carico in un campo ai limiti della praticabilità una squadra terza in classifica, costruita per vincere, costruita per tentare il salto di categoria con giocatori importanti che hanno calcato anche in tempi recentissimi palcoscenici importantissimi come la Serie B o la Serie C però ci abbiamo messo tanto cuore, tanta voglia, tanta applicazione e anche un pizzico di buona sorte e è andata bene Domenica al Saverio Zanchi arriva il Vichio, guardando la classifica ci si potrebbe fare ingolosire, errore da non commettere? Il Vichio ha sempre fatto delle partite incredibili a Anghiari, anche l'anno scorso vennero qui a Anghiari vinsero 1-0, mi ricordo anche la mia precedente esperienza a Anghiari, sei anni fa in promozione una partita decisiva che dominammo e poi perdemmo 1-0, quindi non è una squadra di cui si può fidare La classifica invece per quanto riguarda la Baldaccia Bruni di Anghiari, salvezza come primo obiettivo oppure si spera in qualcosa di più? Il primo obiettivo non è la classifica, il primo obiettivo è la crescita dei 12, soprattutto dei 12 ragazzi crescita calcistica, dei 12 ragazzi che si allenano con la prima squadra che fanno parte della Rosa ragazzi del 94, 95, 96 questo è il primo input che mi ha dato la società, la crescita di questo gruppo importante e abbastanza valido dei ragazzi giovani Il secondo obiettivo è la possibilità di mantenere la categoria